Oggi mi trovo presso il Palazzo delle Arti Marziali della Prefettura di Saitama, immediatamente a nord di Tokyo. Siamo qui per capire come si svolge un esame di Kendo, la disciplina marziale che insegna la via della spada giapponese. Il Budokan di Saitama venne edificato per la prima volta nel 1963 e la struttura odierna risale al 2003. Nel 2008 ha vinto il premio giapponese Good Design per la sua natura polifunzionale. Si estende per una superficie di oltre 15.000 metri quadri ed è composto da tre dojo per arti marziali, una sezione esterna per il chiudo, il tiro con l'arco giapponese, una zona di combattimento per il sumo, chiamata do-yo, tre sale riunioni per lezioni teoriche, spogliatoi e docce. Tutte nuove le discipline marziali moderne vengono qui praticate. Questo è il dojo principale e circa 300 praticanti sono arrivati qui da tutta la prefettura di Saitama per sostenere l'esame di quarto d'anno. Per prima cosa si riceve il numero con cui ogni esaminando verrà identificato durante la prova. Finite le pratiche burocratiche, si inizia con il saluto da parte del presidente della commissione, il quale enunci criteri con cui ognuno verrà giudicato. I più giovani hanno appena 19 anni e verosimilmente praticano il kendo sin da bambini. Le altre fasce d'età presenti vanno dai 30 ai 70 anni. Per accedere all'esame di quarto d'anno devono essere passati almeno tre anni dal conseguimento del terzo. L'esame consiste in una prova teorica scritta con tre domande a risposta aperta su aspetti tecnici e culturali del kendo. Una prova pratica composta da due combattimenti in cui si deve dimostrare di possedere un livello appropriato al quarto d'anno. E per finire una prova di kata le forme codificate a cui però accedono solamente coloro che hanno superato la fase di combattimento. I minuti che precedono l'inizio dell'esame sono caratterizzati da un'attesa ansiosa in particolare quella degli studenti. Nonostante siano quelli con la più alta possibilità di successo la percentuale di superamento dell'esame del quarto d'anno si aggira comunque intorno al 30%. Ognuno di noi dovrà combattere contro un coetaneo per far sì che l'esame risulti il più bilanciato possibile. Finalmente l'esame inizia. Chi si appresta a sostenere l'esame per il quarto d'anno viene trattato con un certo riguardo. L'attesa non avviene più in piedi o seduti a terra ma sulla sedia. A partire dal quarto d'anno solo una coppia alla volta si batte davanti agli esaminatori. La commissione è composta da sei maestri che detengono almeno il settimo d'anno il penultimo livello nel kendo e la qualifica di Kyoshi letteralmente istruttore la seconda delle tre ottenibili. Gli esaminanti cercano di dare il meglio di loro stessi. Nonostante non sia necessario vincere l'incontro in termini di punti conquistati è importantissimo mondare a segno almeno un colpo perfetto chiamato Ippon. La federazione giapponese del kendo stabilisce che il quarto d'anno debba essere concesso a quei praticanti che abbiano sviluppato una certa abilità nei concetti basilari della disciplina e nella loro applicazione dimostrando di possedere un'ottima tecnica. Terminata la seconda prova gli esaminanti si riuniscono per il saluto finale da parte della commissione la quale poi si ritira per finalizzare i risultati. Nonostante l'esame non sia formalmente finito chi supera i combattimenti è abbastanza sicuro di ottenere il grado. Nell'aria si avverte una forte tensione. Nonostante il kendo insegna a mantenere la mente calma in ogni occasione è difficile rimanere impassibili in attesa del vertetto dell'esame. Nel momento in cui i risultati vengono esposti tutti si precipitano per controllare se il loro numero è presente in bacheca. Chi lo trova, accedendo così alla terza e ultima prova percepisce un senso di liberazione. Per molti non è così. Dovranno aspettare diversi mesi prima di poter sostenere di nuovo l'esame. La prova dedicata è una mera formalità e il fatto che la commissione esamini 10 persone contemporaneamente ne è la dimostrazione. A meno che non si commettano errori clamorosi il passaggio di grado è assicurato. Anche qualora si dovesse fallire nei kata non c'è la necessità di ripetere l'esame per intero ma solo questa parte. Ciò è una chiara evidenza di come il kendo prediliga la parte di combattimento libero. L'esatto contrario delle scuole di spada tradizionali quasi tutte incentrate sulle forme e prive di qualsiasi accenno di competizione. L'esame è finito. Si ringrazia il proprio avversario che ci ha permesso di dare il meglio di noi stessi durante la prova di combattimento e dei kata. Chi ha superato l'esame non deve far altro che registrare il grado pagando la corrispettiva quota alla federazione. Alcuni torneranno a casa con la consapevolezza che l'impegno profuso negli allenamenti ha dato i suoi frutti. Altri con molti dubbi e incertezze. Ma è proprio in momenti come questi che le arti marziali ci insegnano a reagire. Io purtroppo non ho superato l'esame. È abbastanza difficile descrivere lo stato d'animo che ho provato nel momento in cui ho capito che non avrei acceduto all'ultima parte della prova. Nonostante avessi messo in conto la possibilità di non farcela trovarsi faccia a faccia con la propria inadeguatezza è sempre una situazione poco piacevole. La prima domanda che inevitabilmente ho posto a me stesso è stata dove ho sbagliato? Le risposte che ho cercato di tarmi erano di comodo. La commissione non mi ha giudicato correttamente. Ero l'unico straniero su oltre 300 esaminanti. Ho dato fastidio facendo le riprese e cose del genere. Passato qualche minuto a mente fredda ho realizzato che quelle che continuava a ripetermi non erano altro che delle giustificazioni delle scuse. Gli esaminatori sono tutti maestri di altissimo livello. Il loro giudizio è corretto e soprattutto imparziale. Il kendo infatti è noto per essere una disciplina dove la nazionalità non conta assolutamente nulla e sono stati gli stessi giapponesi a volergli attribuire questo senso di internazionalità che molto spesso invece manca nelle scuole di arti marziali tradizionali molto più chiuse ed elitarie. Oltre a ciò avevo già chiesto ed ottenuto il permesso per fare dei video durante la sessione e non credo che la commissione si sia minimamente accorta della presenza della telecamera. La verità è solo una il mio livello di competenza non era adeguato per il quarto dann. Nonostante queste considerazioni dovrebbero risultare naturali per quale motivo a loro ha avuto così grande difficoltà nell'accettare la bocciatura? Tutto ciò è riconducibile a quello che nelle arti marziali a mio avviso è il nostro più grande nemico l'orgoglio. Il fatto che io mi sia trasferito in Giappone per praticare le arti marziali ha probabilmente accentuato ancora di più il mio senso di frustrazione poiché mi è sembrato di fallire lo scopo che mi ha portato a vivere qui. La vergogna che ho provato nel dire ai miei insegnanti che non ce l'avevo fatta non era dovuta ad una paura di non essere più considerato uno studente degno anche perché è statisticamente certo che prima o poi chiunque fallisce un esame del kendo ma ad un meccanismo di autodifesa innescato dal mio orgoglio il quale mi ha indotto a pensare che una bocciatura non fosse ammissibile. Tenendo a bada l'orgoglio ho potuto analizzare razionalmente la situazione. Oltre alla fortuna di avere insegnanti di primo livello ho la possibilità di chiedere ad altri praticanti preparatissimi quali siano i miei punti deboli e come superarli. Quali esercizi mentali e fisici poter incorporare nei miei allenamenti in modo da essere pronto per la prossima sessione d'esame. Inoltre il mio fallimento non è che un incidente di percorso se paragonato a tante altre situazioni che si verificano nelle arti marziali. Ad esempio sono oltre 20 anni che il mio maestro di kendo tenta due volte l'anno l'esame di ottavo dan la cui percentuale di promozione si aggira sullo 0,5%. Verosimilmente non lo supererà mai. Così come la quasi totalità dei detentori del settimo dan essendo in assoluto l'esame più difficile che si possa sostenere in qualsiasi ambito in Giappone. Basti pensare che la percentuale di promozione per diventare un astronauta della JAXA l'agenzia spaziale giapponese è intorno allo 0,6%. Oppure cosa dire di un combattente professionista che in tutta la carriera avrà solo un'opportunità di battersi per il titolo una squadra che gioca una finale della Coppa del Mondo un atleta che si allena per anni nella speranza di arrivare alle Olimpiadi. Ovviamente ognuno di noi tende a considerare il proprio mondo come quello più importante e qualsiasi cosa ci accada pensiamo sempre che non possa esserci nulla di peggio. E questo succede quando permettiamo che il nostro ego prende il sopravvento sulla ragione. Quando mi trovo in situazioni di questo genere dove l'ego o le emozioni del momento tentano di sopraffare la razionalità cerco sempre di ricordarmi uno dei punti salienti dello stoicismo. Non soffriamo e ci arrabbiamo per gli avvenimenti ma per la percezione che abbiamo di essi. Grazie per aver guardato il video e alla prossima.